Nato il 7 aprile 1886, Emilio Pujol ha otto anni, quando la famiglia, per favorire il percorso di studi dei figli, si trasferisce a Barcellona. La musica risuona tra le pareti domestiche negli anni della giovinezza, come un suggerimento paziente e carico d'attesa. Non però facilmente la chitarra, considerata in genere uno strumento di modesto valore, che Emilio, tuttavia, assieme al fratello studia segretamente, finché il padre, accorgendosene, decide di assecondarne i desideri e accetta di accompagnarlo dal più noto maestro di chitarra del tempo, Francisco Tarrega. Era un giorno di primavera del 1902. Tarrega riceve i visitatori, ascolta il ragazzo, poi esegue per loro alcuni brani. E i brevi istanti della informale audizione bastano per far ricredere radicalmente il padre di Emilio. Da quel giorno, scrive concisamente Pujol, per mio padre la chitarra divenne il più sublime e meraviglioso di tutti gli strumenti. Pujol diverrà uno degli allievi prediletti di Tarrega, sarà lui il principale continuatore della sua estetica e del suo insegnamento. Al 1912 risale la prima tournée all'estero, che porta il giovane Pujol in Inghilterra, e gli anni seguenti lo portano a ripetuti successi in numerosi paesi europei e un primo soggiorno nel 1918 in Argentina. In seguito Pujol si stabilirà a Parigi. È il 1921 e la città è in quell'epoca una sorta di somma capitale europea della musica e delle arti. Pujol vi risiederà fino al 1940, periodicamente visitando altri paesi europei per tenervi concerti. Un episodio nel periodo parigino avrebbe assunto particolare rilevanza. Nel gennaio del 1936 il maestro visita un museo che custodisce l'unico esemplare allora conosciuto di Vuela rinascimentale. È un momento decisivo, che intensifica il già vivo interesse per il repertorio antico, incrementando in lui il desiderio di immergersi nello studio della letteratura musicale rinascimentale e barocca. Alcuni anni fa, trovandomi a Barcellona, ebbi la possibilità di osservare l'archivio di manoscritti autografi di Pujol. Aprendo i faldoni che custodivano le sue carte, notai con meraviglia centinaia di fotografie di antiche intavolature che il maestro aveva raccolto in un lungo arco di tempo per il desiderio di restituirne il contenuto attraverso una lenta, accurata trascrizione. Così, l'opera di autori come Luis de Narvaez, Alonso Mudarra, Luis Milan, Miguel de Fuenliana, trova nuova voce, ed è la sua voce originale, quella che taceva da secoli e che costituisce un repertorio di valore ragguardevole, che si sarebbe affiancato alle numerose composizioni originali e didattiche scritte dal maestro. Nell'aprile del 1940, solo due mesi prima che le truppe tedesche invadessero la città, Pujol lascia Parigi per tornare nella sua Barcellona, dove inaugura un corso di viguela. La fitta attività didattica degli anni seguenti lo vede spostarsi tra Barcellona, Lisbona e Parigi, per culminare poi, negli anni cinquanta, alla prestigiosa Accademia Chigiana di Siena, dove tra il 1953 e il 63 decine di chitarristi seguono le sue lezioni. Come un instancabile amante dell'arte, scrive Pujol, per questo studio tutti i giorni. Non conosciamo mai abbastanza. Più meditiamo, più possiamo approssimarci alla verità, ma il suo vertice ci sfugge.